Bottiglie per terre, mondizie a macchia di leopardo, non si presentano così lunedì mattina alle aree picnic dei Colli Euganei? Un danno sociale ed ambientale che ha convinto i sindaci ed etra ente gestore a cercare di correre ai ripari. Al via una campagna informativa, ma non solo. Abbiamo anche in mente un sistema di monitoraggio attraverso delle videocamere mobili per disinnescare questo fenomeno dell'abbandono dei rifiuti che ha un costo sociale notevole. può influire infatti sui costi di gestione del rifiuto intorno al 4-5% in più. Un costo a bilancio per i comuni è quello dello smaltimento di questi rifiuti. Stiamo parlando solo su un'area di sosta come questa di Passoroverello e poi un'altra di sosta come può essere quella di Vassanzibio altamente turistica davanti ai giardini di Villa Barbarigo quindi sito turistico di eccellenza europea che costano circa 5.000 euro solo per gli smaltimenti di carattere straordinario. L'abbandono dei rifiuti può essere sanzionato con una multa fino a 3.000 euro, ricordano gli amministratori. Cartelloni pronti per la stagione estiva, per le telecamere serve la collaborazione di comuni e polizia locale. Speriamo di avviarlo nel corso dell'estate. Sicuramente la campagna di sensibilizzazione è in corso e verrà incentivata e accentuata nelle prossime settimane, nei prossimi giorni.